Dopo l'incontro, la conferenza stampa dei giorni scorsi di presentazione del progetto, ora il progetto entra nella fase esecutiva presentandolo di fatto a tutte le associazioni, a tutti i soggetti attuatori. Sì, oggi è un incontro importante perché abbiamo chiamato tutte le istituzioni, i nostri dieci comuni, ma anche tutto il partenerato economico e sociale, le associazioni di volontariato, tutti coloro che sono direttamente coinvolte, proprio per illustrare nei dettagli quello che è il progetto Provincia Amica, seppur già sul nostro sito è possibile attingere alle notizie, soprattutto di essere aggiornati man mano che saranno pubblicati i bandi. Sarà importante il livello di comunicazione perché tutti devono essere messi a conoscenza di cosa realmente questa provincia sta facendo con questo progetto. Uno sforzo davvero notevole per mettere le fasce più deboli in condizioni di affrontare questo momento così difficile dell'economia. Sì, diciamo che è un impegno concreto, reale, immediatamente utilizzabile e percepibile dai nostri concittadini e il momento lo richiedeva e per questo l'intero Consiglio Provinciale, raschiando il barile, ha ottimizzato tutte le risorse veramente centelinando diversi risparmi che siamo riusciti a conseguire durante l'anno 2013. Ma allora non è vero che le province non servono? Ma questo lo facciamo dire a Roma, io l'ho sempre detto, noi fin quando ci siamo cerchiamo di fare bene il nostro lavoro. Dopodiché se da Roma decideranno che quest'ente non ci deve essere più, ci dovrà essere altro, ci interessa poco anche perché il dibattito parlamentare credo che sia proprio scevro dalla realtà, non si stanno rendendo conto di che cosa stanno combinando. Se dovesse passare il disegno di legge del Rio, in Italia è vero che non avremmo più la denominazione provincia ma aveva un problema di enti, a cominciare da oltre 18 aree metropolitane, più tutta una serie di unioni di comuni e delle vecchie province che rimangono ma che non si chiameranno più province. Tradotto, un vero e proprio casotto, lasciatemi passare il termine.